Quattro appuntamenti sul dialogo e sulla tolleranza per andare oltre i confini delle religioni. Questo è l'obiettivo del progetto pensato dalla pittrice Lucia Stefanetti, pugliese da anni impiantata sciacca, che ha fatto della chiesa di San Nicolò la Latina il proprio laboratorio artistico, dove si svolgeranno anche gli incontri. Il primo in programma sabato prossimo 21 gennaio alle 18. È un progetto abbastanza ambizioso in cui si parlerà di dialogo, di dialogo tra le culture, tra le religioni, ma essenzialmente è un progetto creativo. Il mio piccolo sogno nel cassetto, che avevo pensato già qualche anno fa, e che ora grazie alla bellissima compartecipazione di Anita Lorefice, che è posta dalla coordinatrice di questo progetto, poi abbiamo la professoressa Maria Pina Veneroso, abbiamo la dottoressa Angela Scandaliato, poi abbiamo la Pinuccia Curias, che è una scrittrice, e quindi c'è Juanita Lorefice ed io che sono una pittrice, per chi la riconosce. Nello specifico di che cosa parlerete? In cosa avverteranno questi incontri? Nella prima sessione parleremo, ovviamente io parlerò del mio progetto creativo, che vorrebbe essere quello di realizzare, poi alla fine di tutto questo percorso, tre grandi porte che dovrebbero rappresentare le tre religioni monoteista. Qui io faccio affacciare tre donne, che aprono una porticina, farò intravedere il Mar Mediterraneo, che sappiamo culla di civiltà, e poi a queste donne cosa si chiede? L'attraversamento dei confini confessionali, perché l'ebrea varchi la soglia dell'Islam, e viceversa è la cristiana anche. In questi incontri noi parleremo di cultura, e quindi siamo andati a ripescare i nostri grandi rappresentanti della nostra cultura, che sono Dante Alighieri, che sono Boccaccio, che noi non sapevamo, ma probabilmente parlavano già di dialogo da moltissimo tempo. Un viaggio lungo le sponde del Mediterraneo, attraverso non solo letteratura, storia, pittura, ma anche attraverso la musica. Ci sarà nella prima serata, avremo l'avionuccellista Rianna Ciacimino, di ritorno da una bellissima torna in Cina, poi avremo Giuseppe Maria Polizzi, che è un bravissimo liutista, poi avremo Antonio Veneroso, con la sua chitarra classica, ed Ermano Nuozzo, che accompagnerà nell'ultima serata il nostro percorso anche di poetesse del Mediterraneo, che sarà molto bello. Tra le compagne di viaggio di Lucia Stefanetti, la professoressa Angela Scandaliato. Dobbiamo iniziare a riflettere su che cosa è stato il concetto di tolleranza nell'età moderna e perché oggi dobbiamo andare oltre questo principio, che come tutti sanno è stato un principio illuministico, che tuttavia è limitativo nel senso che parte da un pensiero etnocentrico, che è il pensiero e la cultura occidentali. Oggi siamo nell'era della globalizzazione e dobbiamo porci problemi quali ospitalità, dialogo, confronto. Lo faremo attraverso questo viaggio percorso nel Mediterraneo, che ritorna ad essere protagonista e lo faremo attraverso una serie di flash che riguardano la storia, dalla storia antica e dai testi sacri, passando attraverso il Medioevo, l'età moderna, fino all'età contemporanea. Gli interessati potranno ritirare l'invito programma all'ufficio turistico di Corso Vittorio Emanuele, richiesto un contributo di partecipazione.